Sapevi che c'era il matrimonio di mio zio? Molti giorni fa! Non ti presenti al lavoro, non rispondi ai messaggi, non sapevo se ti fosse successo qualcosa o... Hai ragione, avrei dovuto risponderti, scusa, solo io... Non ti facevo una che si preoccupa. Non lo sono, solo che... non mi piace quando... le persone a cui tengo spariscono all'improvviso. Ehi, voglio dire, è chiaro che tu stia bene e che... Già. Questa è casa tua? Io non so cosa mi aspettassi, ma non era... non era questo. Ti va di entrare? No. Io credo che mi volterò e tornerò indietro. Certo che mi va di entrare! Questo posto è fantastico!